Scherzetto, scherzetto! Ci sono tante case qui, mettono tutti i brividi. Io scelgo quella dall'altra parte della strada. Oh, stai attento, scemo! Oh! Ma che... Ehi! Scusi, ma... Ah! Quarant'anni fa, la notte di Halloween, Michael Myers ha ucciso tre persone. Dopo quella spaventosa notte, è stato rimandato all'istituto dove ora è rinchiuso. Ho pregato ogni notte che scappasse. E per quale cavolo di motivo? Per poterlo uccidere. Il bus ha avuto un incidente. Michael Myers è scappato. Tornerà a Haddonfield, a casa sua. Devo proteggere la mia famiglia. Non hai nessun impianto di sicurezza, Karen? Mamma, hai bisogno d'aiuto. Il male esiste. C'è una ragione per cui dobbiamo aver paura di questa notte. È da tanto che mi preparo per questo momento. Non è sicuro girare per strada stanotte. Via di qui, andate a casa, correte dentro! Michael! È qui. È un assassino. Ma sarà ucciso lui stanotte. Aiuto! Felice Halloween, Michael. È un assassino. 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 Grazie a tutti